Il settore delle costruzioni in Calabria sta per arrivare ad un punto di non ritorno. Tutti i dati, sia quelli relativi all'affatturato delle imprese che alla forza lavoro occupata, indicano il crollo del comparto. E in questi anni il trend è stato purtroppo costantemente negativo. E quanto afferma il presidente di Ancia e Calabria, Francesco Berna, che aggiunge, come associazione di categoria regionale abbiamo sempre denunciato che, pur a fronte di una mole ingente di risorse a disposizione dei vari enti locali calabresi, regione, comuni, province, città, metropolitana di Reggio, si assiste ad un'assoluta incapacità di spesa. Le risorse non si traducono in cantieri e ciò è ascrivibile alla presenza di tutta una serie di colli di bottiglia che purtroppo la politica ad ogni livello non riesce ad affrontare e risolvere. 10 milioni e 990 mila euro destinati a quattro regioni del sud, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per migliorare le strategie per la riduzione dei rischi idrogeologico, sismico e vulcanico ai fini di protezione civile, rafforzando la governance, la cooperazione tra i diversi livelli di governo, le capacità e le competenze del territorio. E il programma protezione civile verso una governance più forte per la riduzione del rischio realizzato dal Dipartimento della Protezione Civile nell'ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 presentato mercoledì a Roma e cofinanziato dall'Unione Europea attraverso il Fondo Sociale Europeo e il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale avrà una durata di 5 anni. Una guerra fredda, quella che contrappone il commissario per il rientro dal debito sanitario calabrese Massimo Scura e il direttore generale della tutela della salute Riccardo Fatarella. Dopo la denuncia in procura da parte del commissario d'acta, Fatarella ha deciso di chiarire i motivi legati alla mancata pubblicazione del decreto numero 50, volto all'assunzione di 592 persone a tempo indeterminato nel comparto sanitario. Scura, dicevamo, si è rivolto alla magistratura ritenendo che il Dipartimento regionale abbia compiuto un illecito non pubblicando il decreto. Pronta la risposta di Fatarella. Il decreto non è stato pubblicato perché manca della firma dell'intera struttura commissariale, così come richiesto dal Ministero. Poche ore dopo la conferenza stampa convocata da Fatarella, ecco la risposta del commissario Scura che smonta le osservazioni e le censure del manager regionale. Secondo quanto affermato dal commissario, il decreto sarebbe valido e operante, essendo stato firmato dallo stesso Scura. Manca solo la firma del subcommissario Andrea Urbani, che secondo quanto scritto nel decreto avrebbe solo un semplice ruolo di affiancamento. Come dire, non serve la firma di Urbani perché un decreto come quello che sblocca le assunzioni sia ritenuto ricevibile dalle strutture regionali. Botta e risposta senza esclusione di colpi e se Fatarella ha tentato di calmare gli animi chiedendo una tregua al commissario, dall'altra parte Scura non sembra essere interessato a sotterrare l'asce di guerra. Oltre 16.000 incontri con 2.000 espositori e 1.500 top buyer profilati italiani ed esteri, oltre a più di 200 travel blogger e 2.000 esponenti dei media accreditati. Questi numeri dell'edizione 2017 della Borsa Internazionale del Turismo appena conclusa a Milano, numeri che testimoniano come e quanto sia importante per il nostro paese il settore del turismo. Tre giorni in cui anche la Calabria è riuscita a ritagliarsi un ruolo da protagonista, entrando in contatto con diverse realtà internazionali, spalancando le porte della nostra regione ad importanti opportunità di crescita in termini numerici e di sviluppo turistico. E non a caso la Calabria è la prima regione italiana certificata Welcome Chinese, riconoscimento governativo di Pechino, che permette di entrare nel mercato cinese del turismo in modo diretto e di beneficiare del sostegno della China Tourism Academy, ente del Ministero del Turismo Cinese. Positiva anche la visione del presidente Mario Oliverio, chi viene in Calabria per scoprire va via con la voglia di ritornare e ha detto, non è un caso che la nostra regione registri il dato più alto per la permanenza e una media di 5 giornate e mezzo, la più alta d'Italia. Sebbene la nostra regione debba affrontare ancora diverse problematiche risolte come la programmazione turistica, la qualità dei mari e delle coste, specchio di un sistema di depurazione ancora pieno di lacune. E poi c'è la nuova autostrada A2 del Mediterraneo, alla BIT, è stato presentato un piano per la sua valorizzazione turistica in grado di generare circuiti di opportunità per il territorio. Archiviata la BIT di quest'anno, gli occhi puntati ora saranno al Vinitaly, giunta la sua 51esima edizione. La Calabria presenterà le sue eccellenze in uno spazio comune di oltre 1000 metri quadri, nel quale saranno condivisi i momenti di incontro e dibattito, presentazioni ed opportunità di business. In programma dunque un ricco palinzesto tra eventi di profilo tecnico, istituzionale, gastronomico e culturale, oltre a numerose degustazioni, tutto sotto la guida di esperti e giornalisti di settore, di provenienza nazionale ed internazionale. Affiancare i volontari del soccorso alpino nella loro opera preziosa e fondamentale per la sicurezza in montagna, costruire un percorso strutturato che possa garantire il sereno svolgimento delle attività in condizioni di emergenza che, come noto, sono spesso rese difficili anche dal contesto in cui si agisce. E' questo lo spirito con cui l'ente Parco Nazionale della Spromonte ha deciso di supportare concretamente il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, sezione Spromonte, acquistando nuove attrezzature di altissima qualità tecnologica in grado di assicurare ai volontari impegnati in montagna una migliore capacità operativa. Intanto in occasione della Bitta a Milano abbiamo incontrato il presidente del Parco Nazionale da Spromonte, Giuseppe Bombino, coordinatore peraltro di Federparchi Calabria. Bombino ha evidenziato che anche in questa edizione della Bitta a Milano i tre parchi calabresi hanno proposto un'offerta integrata. L'obiettivo è quello di proporre percorsi di turismo sostenibile tutelando le risorse naturalistiche ed ambientali e valorizzando gli aspetti di eccellenza legati alle tradizioni culturali ed enogastronomiche sotto la sigla di Federparchi Calabria. È questo il percorso tracciato e questo il percorso da seguire? Assolutamente sì e peraltro aggiungo che è il percorso più appropriato per valorizzare un'opportunità ed un'intelligenza che fa della regione Calabria una regione che ha scelto con convinzione di proteggere gran parte del suo territorio, della sua geografia istituendo un regime di protezione che sfiora il 25% del territorio regionale. Dunque è una scelta che non ha soltanto una sua ragionevolezza nei numeri, è una scelta di qualità ed è chiaro che sfruttando questa opportunità e questo sistema dei valori che insieme i parchi proteggono ed esaltano in seno alla regione Calabria noi dobbiamo immaginare anche una politica di sviluppo del territorio che tenga conto di questa intelligenza come si diceva prima. Ecco che i parchi si presentano come sistema dei parchi della regione Calabria che si propongono come una rete che peraltro sfrutta un'altra opportunità che la nostra geografia regionale ci offre. Questi parchi sono collegati tra loro, non solo quelli regionali, quelli nazionali ma tra di essi in particolare tra la Spromonte e la Sila vi è anche un parco regionale che è quello delle serre come tutti sappiamo. L'assessore regionale all'ambiente Antonella Rizzo ha preseduto nella sede della cittadella una conferenza stampa per illustrare il progetto di mappatura e valutazione dello stato ecologico delle acque marino costiere della regione mediante l'applicazione del metodo CARLIT. All'incontro sono intervenuti Enrique Ballesteros Sagarra, capo del gruppo di ricerca BENTIC, Emilio Cellini dell'UOMST ARPA Calabria e la dirigente generale del Dipartimento Ambiente Orsola Reillo. Oggi annunciamo ufficialmente, ha esordito la Rizzo, la collaborazione con ARPA Calabria, con le università, con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e con il CNR per un progetto di mappatura delle nostre coste a 360 gradi attraverso il metodo CARLIT del professor Sagarra. Uno studio, e dobbiamo dirlo finalmente positivo, perché ci dà un'idea della salubrità delle nostre acque marine, ci dice che così come noi abbiamo affermato più volte, siamo protagonisti non solo in Italia ma anche in Europa, grazie a questi habitat naturali che noi abbiamo nei nostri mari, siamo in grado in questo momento di dare anche gli esiti di questo studio che ha visto protagonista la Regione Calabria insieme ad ARPA Calè e insieme ad Ispra e che soprattutto dà la possibilità alla Regione Calabria di adeguarsi ad una direttiva europea e lo fa diciamo dando anche un primato alla Regione perché è una delle prime regioni che si sta adeguando a questa direttiva. La diversità di habitat e di specie marine della Regione Calabrese e la Sicilia sono le più alte in tutto il Mediterraneo, allora per noi era molto importante sapere questa diversità, noi sappiamo che hai una diversità molto alta però non è stata quantificata, allora noi vogliamo quantificare questa diversità e allora applicare dei indici di qualità ambientale per sapere per prima volta qual è la qualità ecologica dell'area interessata. Le segretarie regionali di CGL Cisleville sostengono l'iniziativa di mobilitazione messa in campo dalle federazioni rispetto all'esito inatteso e dispiegabile della vicenda del porto di Gioia Tauro e si schierano senza tentennamenti dalla parte dei lavoratori portuali il cui futuro occupazionale è messo in discussione e quanto si legge in un documento unitario diffuso dopo la proclamazione dello sciopero dei portuali in seguito all'annuncio di 400 esuberi da parte della MCT, società che gestisce il terminal container dello scalo gioiese. L'atteggiamento dell'azienda si fa rilevare incomprensibile, in questo contesto poi appare sempre più incomprensibile scrivono CGL Cisleville l'atteggiamento del governo che con il suo disimpegno sta accostellando di incertezze quel percorso di protezione e di rilancio dello scalo portuale di Gioia Tauro, che era stato sottoscritto lo scorso anno a Palazzo Chigi. La convention organizzata dal Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese su difese del suolo, di sesto idrogeologico, risorsa idrica, con un focus specifico sulla diga, sul fiume e melito, non ha mancato di suscitare particolari interessi e partecipazioni di sindaci, consiglieri regionali, parlamentari, organizzazioni agricole, sindacati, associazioni, categorie produttive, consorsi di bonifica, agricoltori. Nel suo intervento il presidente dell'ente consortile, Grazioso Manno, non ha risparmiato aspre critiche alla politica del territorio regionale e nazionale, il suo appello è stato alla coesione per cambiare tutto ciò che è necessario, il coraggio ha detto di avere coraggio. Qui sembrano aspre critiche perché è la realtà, la realtà è che noi che siamo titolati come consorzio di bonifica per primi ad essere sul territorio per la messa in sicurezza del territorio veniamo lasciati fuori da questo argomento. Siamo stati abbandonati per quel che riguarda la diga sul merito, che è un'opera straordinaria, importante, per la quale c'era è stato chiesto da parte del ministro del Rio la realizzazione del progetto, noi l'abbiamo fatto nei tempi previsti, è il 15 luglio, devo dire che da quella data non abbiamo ricevuto più nessuna comunicazione, quindi la mia non è una critica, è la constatazione di una realtà, c'è un'assenza totale da parte del governo centrale e direi anche del governo regionale rispetto a questa opera. Ma lei sicuramente avrà chiesto un incontro con il presidente Olivario? Ma guarda, io l'ho chiesto più volte. Era una domanda scontata però. So che il presidente è spesso impegnato, perché avendo su di sé l'impegno dell'agricoltura, turismo, cultura, protezione civile, credo che siano impegni notevoli che non gli lasciano molto spazio. Probabilmente io mi permetterei di dire che in una terra come la nostra un'assessore all'agricoltura ci vorrebbe, anzi ci vuole, un'assessore al turismo ci vorrebbe, anzi ci vuole, un'assessore alla cultura ci vuole, secondo me, un'assessore che si occupa dei fondi comunitari ci vuole. Non è possibile che tutto questo pesi sulle spalle pur forti, pur molto protetti del presidente Olivario. E non è una polemica la mia, è una constatazione anche questa. La SACAL per gli scali aeroportuali di Reggio Calabria di Corotone abolisce il lavoro a tempo indeterminato, cioè quella tipologia di lavoro che consente le persone di vivere con dignità e con un minimo di certezza. Lo afferma il segretario generale della Filt CGL di Corotone, Nino Costantino, che aggiunge, gli avvisi di selezione pubblica per il reclutamento di personale certificano già questo primo dato drammatico, c'è di più purtroppo. Avremo modo più avanti di sapere, bontalloro, quanti saranno i part-time, i full-time, i lavoratori a chiamata e quelli che saranno declassati a stagionali. Ma non è finita qui, non sarà solo SACAL SPA che assumerà con quelle tipologie lavoratori, ma una parte rilevante dei già esegui lavoratori sarà assunta da SACAL GH, una società in perdita fino ad oggi partecipata al 100% da SACAL SPA, ma con la decisione di vendere e quindi di privatizzare fino al 100%. Inoltre negli avvisi di selezione non sono stati previsti profili professionali di alcune figure che limitano quindi persino la partecipazione al bando a molti dipendenti. È arrivato a Gioia Tauron un treno carico di autovetture .E500X prodotte nello stabilimento Fiat di Melfi, la cui logistica è organizzata dalla società Grimaldi. Fatti i consueti controlli, le auto sono ora pronte nei piazzali per i mercati nazionali ed internazionali. All'arrivo del treno erano presenti in stazione l'assessore regionale alla logistica Francesco Russo e Giampaolo Gotelli, amministratore delegato di Mercitalia Rail, società che l'1 gennaio scorso ha ricevuto il ramo cargo di Trenitalia ed Opera in Italia e dall'estero, promuovendo, attuando e gestendo ogni iniziativa e servizio nel campo del trasporto ferroviario delle merci. Da sottolineare l'impegno della società ferroviaria nel riuscire ad organizzare un treno da 550 metri, l'arrivo del treno di Nuova Gioia Tauron, si affermi in una nota della regione, ha dimostrato la piena sintonia e convergenza di tutti gli attori coinvolti che hanno operato ed operano sinergicamente ciascuno per le rispettive competenze, Ministero Infrastrutture e Trasporti, Regione Calabria, Autorità Portuale, BLG, MIR, insieme a RFI. La deputata del Movimento 5 Stelle, Dalila Nesci, ha chiesto di modificare lo schema di convenzione RAI su cui a breve si andrà il voto, affinché nelle relative aree di appartenenza il servizio pubblico radio televisivo dedichi spazio alle minoranze di lingua albanese e di altre lingue tutelate dalla legge. Era doveroso, commenta la deputata dei 5 Stelle, componente della commissione parlamentare Vigilanzerai, sia per rispetto verso quelle comunità che custodiscono una preziosa tradizione culturale, sia perché imposto dalle norme. Forza Italia riparte dal sud e da Cosenza. Al Castello Svevo, per un'intera giornata, gli amministratori provenienti da tutta Italia e i rappresentanti degli ordini professionali si sono confrontati sul tema la rigenerazione urbana come strategia di crescita territoriale. Un onore per me ospitare questo primo appuntamento di un ciclo di convegni che staranno in giro per l'Italia su argomenti importanti. Uno dei temi principali che non riguarda solo la riqualificazione della città, ma anche il contrasto alle povertà e la rigenerazione sociale che può avvenire attraverso un'azione mirata che punta a riqualificare gli spazi, soprattutto quelli delle periferie, delle zone emarginate, costruite male negli ultimi 70-60 anni, ma soprattutto un'azione mirata a cambiare il futuro del nostro Paese attraverso queste azioni, attraverso le buone pratiche che si possono fare con amministrazioni che puntano a risolvere problemi come quella della raccolta differenziata, dell'efficientamento energetico, dell'efficientamento delle reti. Nel corso dell'incontro è stato ribadito che per far ripartire l'Italia è necessario rilanciare le aree del mezzogiorno. Intanto noi abbiamo bisogno di fare in modo che al sud arrivino le risorse adeguate per poter sperare di crescere, ma serve anche una ricetta nuova dal punto di vista della diminuzione delle burocrazia, della diminuzione delle tasse, dall'aumento della sicurezza, cioè creare le condizioni per cui un imprenditore si è invogliato e si è incentivato a investire nel mezzogiorno. Lo sviluppo territoriale e imprenditoriale è necessario parta dal basso, dai comuni, come quello di Cosenza che ha saputo mettere insieme innovazione e tradizione. Ripartiamo dalle esperienze dei comuni, in particolare da quei comuni molto ben amministrati. Cosenza è una delle isole più importanti del rilancio sul piano della rigenerazione urbana, del rapporto col territorio. Il cittadino è al primo posto nelle esperienze e nelle idee di questo sindaco e quindi tante altre realtà come ci sono ovviamente sul nostro territorio nazionale sono un esempio importante di realtà che si avvicina al cittadino. Ad Alto Monte con una cerimonia festosa di bambini e famiglie sono stati inaugurati i nuovi spazi della scuola dell'infanzia di Contrada Morbone Casello. I lavori di ristrutturazione e riqualificazione della struttura rientrano nelle iniziative del progetto nazionale Fare Scuola che trasforma i luoghi dell'apprendimento in spazi sicuri e colorati. Si tratta di un progetto promosso da Enel Cuore Ollus e dalla fondazione Reggio Children che interessa 60 città italiane. In Calabria le scuole ristrutturate sono a Reggio, Cosenza, Crotone ed Alto Monte. Sosteniamo fortemente che l'educazione sia parte di qualcosa di più ampio, che vada a coinvolgere le famiglie, i bambini e le realtà totali in cui viviamo e si leghi profondamente al contesto sociale e culturale del territorio che occupiamo e individuiamo. Oggi è un traguardo molto importante per una realtà come quella di Morbone che va a distinguersi in un contesto molto ampio. Lo spirito di questa iniziativa è quello di intervenire non già con una ristrutturazione di tipo edilizio ma attraverso lo studio effettuato da architetti, pedagogisti ed esperti che appartengono al mondo della scuola, realizzare un ambiente armonico e consentire quindi ai bambini nel momento dell'apprendimento di vivere un ambiente sereno. Per questo ci siamo, nel cuore che io rappresento è la nostra Olus nata dal 2003 che ha portato a compimento circa 600 progetti di solidarietà in tutta Italia, ci siamo affiancati ad una fondazione Reggio Children che ha una competenza specifica del mondo della scuola. Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda legata all'omicidio di Antonella Lettieri, la 42enne cirotana massacrata nella sua abitazione la sera dell'8 marzo. A distanza di quasi un mese gli inquirenti e i ris di Messina, dopo numerosi accertamenti e più di 30 reperti ispezionati riconducibili al delitto, hanno individuato il presunto assassino nella figura di Salvatore Fuscaldo, bracciante agricolo vicino di casa della donna arrestato con l'accusa di omicidio volontario pluriaggravato. E mentre dal carcere il cacciatore continua a professarsi innocente, ieri il giudice del Tribunale del Riesame di Catanzaro si è riservato di decidere proprio sul destino di Fuscaldo, acquisendo tutte le istanze presentate dall'avvocato Francesco Amodeo, tra i punti contestati con forza dalla difesa all'inquinamento della scena del crimine da almeno cinque persone prima dell'arrivo dei Ries di Messina. Non diciamo nulla per quanto riguarda le investigazioni fatte successivamente, alziamo le mani, però per quanto riguarda il momento prima che arrivassero i soccorsi, contemporaneamente ai soccorsi e prima che poi iniziasse la messa in sicurezza della scena del crimine, là noi facciamo questione, perché almeno cinque persone sono entrate in quella casa e hanno comunque attraversato in modo inverso il percorso fatto dall'assassino, perché sono entrate dalla porta secondaria, hanno attraversato la prima rampa di scale, i corridori, la seconda rampa di scale, il luogo dove era il cadavere e sono entrati in cucina. E poi praticamente sono usciti dalla porta finestra nel secondo momento quando sono arrivati i primi soccorsi che sono l'ambulanza e i carabinieri. Quindi noi sosteniamo che essendoci questo inquinamento tra la scena del crimine si spiegherebbero molte cose. E sulle prove che al momento incastrano l'assassino, come gli scarponcini e la trapuntina rinvenuti nei vigneti di Ciron Marina e sulle tracce ematiche presenti nell'auto dell'uomo, il legale sostiene che il DNA di Fuscaldo non sia nella quantità e nella qualità attribuibile all'uomo. Perché il DNA della vittima è sicuro, perché sono le tracce di sangue, schizzi e strofinamenti, mentre invece il DNA che si potrebbe appartenere al Fuscaldo non è certo. Nel trapunto le tracce del mio assistito non ci sono assolutamente, c'è soltanto tracce del DNA della vittima. Sicuramente la trapuntina è stata sul luogo del delitto, sicuramente la trapuntina avrà contenuto le armi o l'arma del delitto. Tre persone sono state sottoposte ad un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari dagli agenti della squadra mobile di Crotone. I tre sono accusati di rapina ai danni del proprietario di un immobile al quale è stata portata via la pigione che aveva appena riscosso per l'effitto di un locale ubicato nel centro cittadino. Proprio mentre si trovava nel locale l'uomo sarebbe stato aggredito da altre due persone, una delle quali gli avrebbe puntato contro una pistola. La vittima ha riportato la frattura del malleolo e un trauma cranico con una prognosi di 30 giorni. Sarebbe stato Leonardo Sibilla, 34enne crotonese, a chiedere ad un suo dipendente, Gaetano Pignolo, di 33 anni, di organizzare la rapina ai danni del proprietario del locale nel quale è ubicato il suo esercizio commerciale. Il commesso a sua volta avrebbe coinvolto un pregiudicato del posto, Sandro Proietto, di 38 anni, per portare a termine il colpo. Gli investigatori della squadra mobile questa mattina hanno sottoposto agli arresti domiciliari tre uomini con le accuse di rapina aggravata, simulazione di reato e lesioni gravi. Proponevano abbonamenti ad una rivista inesistente al fine di raccogliere fondi, spacciandosi per finanzieri. A scoprirla è stata la stessa guardia di finanza. Le sue indagini hanno indotto il legip del Tribunale di Palmi a emettere un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti delle quattro persone coinvolte, una misura degli arresti domiciliari, una misura dell'obbligo di dimora e due misure dell'obbligo di presentarsi alla Polizia giudiziaria, nonché il sequestro preventivo di una società e di un immobile utilizzato come sede del call center. La magia delle mani di Francesco Grillo, pianista milanese conosciuto in tutto il mondo, ha incantato il pubblico della Casa della Musica di Cosenza. Il concerto, dal titolo Piani diversi, promosso dall'Associazione Quartieri Tranquilli e dal Conservatorio Giacomantonio e sostenuto dal Comune di Cosenza, ha dato modo a Grillo di spaziare in più generi musicali. Principalmente brani miei tratti dai miei lavori discografici, anche quest'ultimo disco dedicato a Vivaldi, ho fatto questa trascrizione delle quattro stagioni per Pianoforte e poi altri lavori presi appunto dai dischi precedenti, poi su altri generi di musica, dal jazz alla musica brasiliana. L'importante è che la musica abbia un valore, non è importante che genere sia e che cosa vuole rappresentare. L'importante è che abbia un contenuto profondo e che sia un veicolo importante di emozioni. Il concerto ha anche avuto un fine benefico. L'incasso della serata è stato infatti devoluto per i progetti di ricerca avviati dalla Fondazione Lillifunaro. 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 Lillifunaro.